Un allevamento lager all'interno di una vera e propria discarica piena di rifiuti anche pericolosi con capre e pecore che pascolano tra le Eternit. Per l'area che si trova a Vicio Maggio nella comune di Civitella in Val di Chiana sono ovviamente scattati sigilli. Un'operazione dei carabinieri del NASA di Firenze e del gruppo ambiente della procura di Arezzo assieme ad Arpat. All'ora arrivo gli inquirenti hanno trovato pecore e capre una sessantina in tutto che stavano brucando all'interno di una superficie quasi completamente coperta da Eternit sbriciolato ed altri rifiuti speciali. Alcune di loro zoppicavano ma la sporcizia era davvero ovunque anche dentro ai ricoveri per gli animali. Era inoltre assente una letamaia sostituita da un cassone di legno all'interno del quale forestale hanno fatto una marascoperta un cucciolo di gatto in fin di vita con la parte sinistra del muso piena di sangue. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Trovati anche altri gattini pieni di congiuntivite che si nutrivano di una carcassa di un uccello. Sul posto è intervenuto anche il personale veterinario dell'Asla di Arezzo che ha confermato le gravissime carenze igienico-sanitarie e lo stato di detenzione degli animali incompatibile con la loro natura e causa di gravi sofferenze. Il proprietario, un cittadino italiano, è stato denunciato. Dovrà rispondere di realizzazione e gestione di discariche illecita di rifiuti pericolosi e maltrattamento di animali. Secondo i forestali, inoltre all'interno della stessa area sarebbe stata accertata anche la presenza di una macellazione clandestina di animali. L'intera area adesso è stata posta sotto sequestro preventivo d'urgenza.